Fere, 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 ho un regalo per te, un regalo per te Davvero? Cosa? 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 Sì, sì, tieni E quindi Cosa me ne faccio, scusa? Ti serve per la mappa del tesoro Dove troverai il mio regalo, Fere Quindi mi stai dicendo che tu non mi devi dare il regalo In questo preciso istante Ma che mi devi fare pure faticare Per trovarlo? Divertirti per trovare un bel regalo, Fere Cosa stai facendo? No, Fere, Fere, lo recupero Fere, non buttare nel libro E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E io sono Stef, che stai giochiamo a Minecraft E finalmente torniamo nelle Sky Realms Ovviamente, visto che è passato un po' di tempo Ci saranno tantissime novità Esattamente, la prima cosa che vedrete è Spim Ci hanno fatto gli standardi con il nostro nome Anche Fere, Niki, al suo, nella sua isola Dopo ve lo facciamo vedere È stato un consolino E sono davvero fantastici Adesso la nostra isola è 100 volte più ganza Come avete capito dal pre-intro Oggi ci sarà una mappa del tesoro Ovvero, ho nascosto un regalo per Fere, Niki Nella mia isola Quindi, in una zona di quest'isola C'è davvero un regalo per Fere, Niki Sto già cercando, dove? Le darò degli indizi A voce, dato che ha buttato il mio libro E lei dovrà riuscire a trovare questo regalo Se lo troverà, ovviamente, se lo potrà tenere Prima di iniziare vi faccio giusto vedere Che qua ho iniziato a lavorare Ma ancora non è finito tutto Come vedete ci sono i vari recinti per gli animali Per ora pecore, polli e maiali Dopodiché, al primo piano sono riuscito A piantare un sacco di roba Infatti, come potete vedere, ci sono meloni C'è il grano, carote Ci dovrebbe essere anche un po' di patate Tutto super carino Assi fare guarda anche tu perché è carinissimo Ho già visto, ho già visto, ho già visto Volevo andare al piano di sopra ma stavo cascando di sotto Al secondo piano abbiamo alberi E ho un po' di tutto Qua, come avevo già detto nel precedente video Voglio fare un oasi Quindi ci sarà questo laghetto con tutte le canne di bambù E io ci pescherò E tutto intorno sabbia e cactus Ovviamente, per il momento, sono troppi cactus E troppa poca sabbia, eccetera, eccetera Ma è giusto perché devo sistemarlo piano piano E farlo come si deve, quindi questo è un po' il piano Dove c'è più da lavorare Parti dal ponte della nostra isola Ok E io ti dirò di quanti passi e in che direzione muoverti Ma è troppo complicato Ok Ed è la prima fase di questa mappa del loro Allora, come ne contiamo i passi? A quadrati, uno, due, tre Ovviamente a blocchi Ok Ok Sei pronta? Ok, vai Allora, sei blocchi in avanti Uno, due, tre, quattro, quindi qua Qua Ok, uno a destra Ti stai prendo in giro? Altri cinque in avanti Uno, due, tre, quattro, cinque Perfetto Tre a destra Qua? Sì Ci sono? Poi, due a destra Quanto durerà? Quattro a sinistra Dai, mi stai prendendo in giro Sono appena andata a destra Non posso tornare quattro a sinistra Mi stai prendendo in giro Ma Fede, è una cosa seria Allora, ti distruggo la edistra Fede, provaci Sto per distruggerti Fede, ti brucia il regalo Guarda, mi metto pure l'ascia Quindi, allora, dimmi esattamente dove devo andare E non mi fare mai più di questi scherzi Ok Vedi questo blocco in pietra? Mh Rompilo Non è nulla per romperlo? Ok, tieni Fatta Ma pare il tesoro Che tristezza L'hai rovinata tu, Fede Io devo fare tutta una roba carina Ma mi hai insultato Cioè, una carota Esatto Sei contenta, Fede? Beh, a sto punto mi sgobbo pure la cesta E sai com'è Sai com'è Siccome faceva schifo Almeno mi prendo pure qualcosa di utile E che posso sfruttare nella mia Dai, dov'è il vero regalo? Dimmi che è uno scherzo perché sto per andare nel video e ti sto per dare uno schiaffo lì davanti a tu È uno scherzo ma sapevo che tu sei partita molto, diciamo, sfiduciata, con poco entusiasmo E quindi era per farti capire che qua stai rischiando il tuo regalo Sto prendendo a colpi di carota Quindi Adesso ci sono degli indovinelli Ho cercato indovinelli per bambini Quindi mi raccomando Stai prendendo in giro, scusa Fede, non puoi bagliare Mi stai prendendo in giro Allora, partiamo Mi stai prendendo in giro Fede Si tuffa senza bagnarsi Il pesce Il pesce si bagna No Devi riuscire ad indovinarne tre Per avere il prossimo indizio su dove si trova la tua cesta con il tuo regalo Ok? Il paracadutista Si tuffa senza bagnarsi In effetti è giusto Si lancia ma non si lancia nell'acqua Però la mia risposta corretta era un'altra Però è giusta quindi te la do valida Ok Perché io avevo il portiere Il portiere di calcio si tuffa ma non si bagna Dai ma non si dice che si tuffa un portiere No, si, 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 si dice Non si dice che si lancia? Il colmo per un medico Questa forse è più una freddura che un indovinello Dai, le freddure non le conosco Essere molto paziente Cosa che io non sono Quindi non avrei mai potuto fare il medico nella mia vita, ok? Allora, poi, 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 poi Questo è troppo difficile Grazie Ha quattro gambe ma non può camminare Tu Non ha quattro gambe Ma quattro gambe inteso zampe oppure gambe? Gambe Gambe Né braccia né zampe Il tavolo Brava Il tavolo, il tavolo, il tavolo Tanto penso alle cose più stupide possibili e lo trovo Devo trovare l'ultimo Ah sì, alla vita ha pesato un filo Dai, è facilissima Il trapezista No L'equilibrista No Un'altra cosa che Il ragno Un? Ragno Esatto Bravo Era giusto Sì Perché l'ho totalmente inventato Il ragno sta sempre Ho pensato Ok, allora, adesso vieni con me E cosa c'entrava questa con la mappa del tesoro? Era il secondo stadio Ok Io volevo fare una mappa del tesoro bellissima Però siamo in una Skyrims e avevo poche possibilità Giustamente Accontentati della mia mappa del tesoro No, non mi sto lamentando Voglio capire quanto manca No, siamo all'ultima fase Ok Ok, tu adesso parti da dove sono io Ti farò fuoco e acqua E tu dovrai trovare dove si trova la cesta Ok Vai, inizia pure Inizia a muoverti Ma non ho niente per scavare E tieni il mio piccone in diamante bellissimo Se lo perdi, muori Probabilmente lo perderò Esatto, vai Acqua Mi sono chiusa dentro? No, no No, faccio i passaggi Acqua, 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 acqua Un minimo di fuoco Ma proprio poco, poco, poco Giusto che ti riscalda un pochino Allora era qui dei maialini No, acqua Maialini, avete un regalo per me? Non hanno nessun regalo Ma siete voi il mio regalo? Quel cuccioletto lo voglio Mettimelo nella mia idea Spera, non te lo metterò mai Anche lui Fuocherello Fuocherello Fuoco Qui Non siamo a fuochissimo Quindi si è solo a fuoco Qui No, no Fuoco Sei vicina Sei vicina Fuoco di più rispetto a prima Oh cavolo, sto aprendo tutto Ok Quindi per farti capire che sei vicina Fuoco intenso Ma non è intensissimo Prova ad aprirla, cara Ma mi sa che non c'è nulla Ok Fuoco molto potente Ma non sei nel punto esatto Cosa vuol dire? E non so che determinare Allora qui No Qui No Qui Quasi Ti ricordi dove c'era la cesta con la carota? Era sotto Era sotto quella cesta Cioè tu mi hai fatto fare Sì Oh mio Dio Oh mio Dio No aspetta Mi è caduto Dove è finito? Mi è caduto Cioè? Mi è caduto qua Aspetta Fede, hai buttato il mio regalo? No, eccolo, eccolo Come risalto? Vai direttamente a casa Tanto Oh mio Dio Ciao bellissimo È arrivato anche qualcuno Consolini Decidiamo il nome per l'Ossalot Quello che mi piacerà di più Sarà il suo nome ufficiale Ok, quindi Commenti Nome per il gattino Di Ferinichi Ciao È arrivato anche un consolino Oggi Sguarda, sembra il mio compleanno Da quanto è bella questa giornata Che felicità Che felicità Ti piace il regalo? Tantissimo Ok Adesso possiamo far vedere la tua isola Mia cara Sì, allora Ho sistemato un pochettino Mi sono rifatte i polletti Oltretutto un consolino Mi ha anche regalato un altro pollo Così li ho potuti far moltiplicare Le mucche E i maialini Le mucche mi serviranno Per la prossima challenge Che poverine Le dovremmo far fuori Per la pelle Ci tocca Oltretutto Poi vabbè Ho sistemato il cobblestone generator Quindi grazie per tutti i consigli Che mi avete dato Adesso Guarda, lo posso anche far vedere Guarda al volo Col mio blocco Cioè con il mio Dai, due secondi Funziona tutto Alla perfezione E oltretutto Adesso i dropper Mi arrivano tutti In questa cesta Sì, perché è stata aiutata Da delle persone un po' pro Ovvero Luca Più Crypto Crypto è un altro Ragazzo Perché hai dovuto Fare la spia Allora loro Loro due mi hanno aiutato Mi hanno fatto tutte queste cose Automatizzate Per farmi sentire Più figa di Steph Capito Così tutti Vedevano la misura E avrebbero fatto Oh mio Dio Quanto è brava Ferinichi E tu hai fatto la spia Ho dovuto dirlo subito Perché qua i consolini Nemmeno ci credono Cioè Tutto quello che lei prende Va automaticamente In questa cesta Qui invece ha fatto I cactus automatici Quindi praticamente Tutti i cactus Quando crescono Automaticamente Si autodistruggono Cadono sull'acqua E vanno qui sotto Dentro questa cesta Una cosa che Ferinichi Non potrebbe fare da sola Nemmeno tra cent'anni Non è vero Dopodiché Però ho imparato tante cose adesso E anche questo Mi hanno sistemato Sì vabbè Allora Si sono lasciati Prendere leggermente la mano Ok Perché stavano solo guardando La mia isola E hanno fatto Oh mio Dio Facciamo tutto E vabbè Quindi è successo quello Boom Dai vediamo 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 Non so neanche se hanno aggiunto Qualche altro premio Forse il blocco di Oh Ferinichi Cos'è Allora no Ho trovato Non lo leggo da qui Cos'è Ho trovato un libro schifoso Metti il mio schermo Ti conviene Non lo so Non lo voglio cambiare Ok fatto Ho visto Che adesso si può trovare Anche un mob spawner Sarebbe fenomenale Cioè vale Hanno aggiunto un sacco di cose Mi sa che vale tipo 300.000 Una roba del genere Mi sa che è la cosa Più rara in assoluto Però mi andrebbero bene Anche le cose in diamond Ho tanti soldi Però ho un altro libro schifoso Che noia Neanche li so guardare Quei donati libri Mi fanno schifo Eh però non servono Quindi Ok Un set di armatura In diamante Vabbè Quello se vuoi andare Nella zona pvp È buono avere la scuola Non è male Non è male Non è male Vediamo adesso che altro trovo Un altro set In diamante Bla 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 Grazie Ok Qualcosa di un po' più Entusiasmante Mille No Mille Sì Mille 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 Dai Non so perché le gioco 10.000 Una decente Su 7 Non è che ne sto chiedendo Tante Ok 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 Iniziano ad essere interessanti Va già meglio Va già meglio Va già meglio Ultima Ultimissima Dai 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 Mob spawner Adesso Altri mille Altri mille Almeno ti sei fatto Un bel po' di soldi E penso che ora I mob spawner Te li puoi comprare Ma che Ma che Abbiamo Adesso ho 13.000 dollari Ok Ok Se ricordo bene Un mob spawner Costa almeno 150.000 Ma dai no No Non ne vado a vedere Non ne non ci credo 250.000 300.000 E 400.000 Ma sono pazzi Vabbè E l'Iron Golem spawner Che ovviamente Ha un valore assurdo Per fare lo spawn Di infinito Di Iron 750.000 Comunque A proposito dei commenti Volevamo dire Dato che poi L'abbiamo detto anche Nel secondo video Che uscirà oggi Però in effetti Esce prima questo Quasi sicuramente Che Da ora in poi Ci sarà il momento Consolini Si chiamerà così Ovvero Un momentino Durante i video Dove leggeremo Qualche vostro commento Dato che appunto Non stiamo più riuscendo A rispondere A tutti i commenti Cerchiamo almeno Di mettervi dentro i video Sempre e comunque E non solo Ne si può fare Quindi da ora in poi Leggeremo qualche vostro commentino Quindi cercate di commentare tanto Ovviamente selezioniamo Tra quelli spiritosi Quelli utili Per magari il video successivo Quelli molto carini Eccetera eccetera Quindi Certo Commentate tanto 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 E da ora in poi Leggeremo i vostri commenti Ad esempio Io volevo leggere qualcosina Di che video li leggiamo Dell'ultimo Minecraft O dell'ultimo video uscito Quindi quello di lunedì Con SP Jockey Che dici? Eh dai facciamo l'ultimo uscito Mi sembra giusto Così leggiamo i più recenti Questo mi è piaciuto tantissimo Che ad esempio ha scritto Aspettavo le detran Siete grandi Sia con SP Jockey O da soli La copia super mega carina Grazie È una tag questa Sì l'ho visto Ne volevo leggere un altro Fate Gessù con SP Jockey e Luca Lo faremo E abbiamo però intenzione Di fare qualcosa di molto pazzo E stavamo pensando Dato che loro hanno proprio Un server privato di Gmod Che ci permette di Reggere i cose più pesanti Esatto Di fare un Gessù Con tipo 300 NPC Una cosa totalmente assurda Quindi Stiamo vedendo un pochettino Di vedere se funziona Eccetera eccetera E nel caso faremo un Gessù Anche con loro Esatto Comunque in ogni caso Siamo super felici Che state apprezzando i video In collaborazione con SP e Luca Perché ci stiamo trovando benissimo E soprattutto Sta per arrivare una serie Su Minecraft Insieme a loro due Sì questo è lo spoiler di Steph Perché ormai tiro uno spoiler Alla settimana Ho tirato uno spoiler a video Adesso spoilerò anche Lo speciale 100.000 Fere No Va bene Quella è una sorpresa Esce domenica alle 11 Se siamo a 100.000 iscritti Non fa tenerti fermo oggi Però Non ho detto di che cos'è Non ho detto di che cos'è A presto A presto A presto A presto Tutto Secondo me Io non dico altro Infatti questa serie Probabilmente o sarà l'ultimo O il penultimo episodio Perché poi ci vogliamo focalizzare Su quella E tanto questo server Sinceramente L'avevamo detto Che questa sarebbe stata Una serie di pochi episodi Nell'attesa poi di iniziare La nostra Per avere propria serie Allora Volevo Andare Fere L'hai visto? Sì Quel killer assassino Sì perché non ho mai messo Poi le torce Sono stato un pochettino Trasgressivo Nel mio lavoro Sì sì Fere Fere ti ammazza Lo sai anche tu Già non sai combattere normalmente Nelle scale Ecco qua Gli ho dato un colpo Sei soddisfatta? Ah ma ce ne sono due Si stanno moltiplicando Mamma mia Dai comunque direi Che ci possiamo fermare così Che altrimenti ci esce Un video troppo troppo veloce Prossima settimana appunto Potrebbe già uscire la serie Con SPGOK E con Luca su Minecraft Che sarà probabilmente Una volta alla settimana Ma se vi piacerà Tanto 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 Potrebbe essere anche due volte Esatto Quindi preparatevi Perché sarà un qualcosa Di davvero epico Che ci stiamo Lavorando tanto 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 Non abbiamo mai lavorato Così tanto su Minecraft Ed è anche merito di Luca E Crypto Se sta uscendo bene Ah voglia voglia Perché stanno lavorando Sul server giorno dopo giorno Noi non avremo mai avuto Il tempo di lavorarci così tanto Quindi ringraziate anche loro Quando uscirà la serie Comunque ci fermiamo così Speriamo che il video vi sia piaciuto Sondaggino Commenti Likes Provate a rinnovinare Nei commenti Che cosa sarà lo speciale Perché così Ci iniziamo a divertire E iniziate a ricordarvi Domenica alle 11 Ve lo continueremo a ripetere Ma se davvero Facciamo i 100.000 iscritti Entro questa settimana Speriamo di sì Uscirà domenica Alle 11 del mattino Esatto Ovviamente saranno tre video Invece che due Perché non vogliamo Sarà una cosa in più Lo speciale Esatto Una cosa in più Beh ragazzi Se vi riesco così Lasciateci un like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao